Prima l'epico scontro tra il presidente della regione Oliverio ed il commissario Scura, poi il continuo braccio di ferro tra governo e regione. Negli ultimi anni la sanità calabrese è diventata sempre più debole, la migrazione è aumentata al pari delle dispute dalle quali non sono scaturite misure ed azioni necessarie a migliorare gli standard, mentre sui livelli essenziali di assistenza non si sono fatti passi in avanti e l'indebitamento non è diminuito in maniera significativa. E' spietato il giudizio che la CGL offre della sanità calabrese nel corso di un convegno organizzato assoverato dal sindacato dei pensionati sul diritto dei pensionati stessi ad avere un'assistenza accettabile. Gli allarmi sulle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore, condensati nell'esposto presentato nello scorso settembre alla procura antimafia di Catanzaro, sono rimasti inascoltati, dice il segretario della CGL dell'area Catanzaro, Crotone Vibo Valenzi e Raffaele Mammoliti, mentre era evidente che occorrevano ispezioni approfondite in tutte le aziende alla luce di una diffusa condizione di criticità, sia dal punto di vista amministrativo e della gestione, tra doppi pagamenti, gestione opaca degli appalti e proroghe interminabili, sia per le oggettive carenze in materia di cure ed assistenza. Anni di commissariamento per attuare il piano di rientro, tagli ad ospedali, posti letto e prestazioni per tentare di riordinare i conti e contenere i costi, blocco del turnover, non sono serviti ad azzerare e ripartire. Inoltre, la spesa per beni e servizi continua a lievitare e le aziende paiono incapaci di razionalizzarla, continuando ad accumulare debiti. Per Mammoliti, da un lato lo scontro tutto interno al sistema politico-burocratico, una vera e propria lotta di potere, non ha consentito di giungere alla pianificazione di un piano sanitario adeguato ai bisogni di salute dei calabresi. Dall'altro è evidente che il sistema sanitario è incrostato da resistenze ai cambiamenti e dunque fatica ad assimilare i criteri dell'ordinata amministrazione. E questo, dice Mammoliti, favorisce l'avvicinamento e l'affermazione di potere del crimine organizzato, che non può restare insensibile alle norme e a montare delle risorse finanziarie che un paese sempre più vecchio deve impiegare nell'assistenza. La problematica della sanità in Calabria sta implodendo, abbiamo visto quello che è successo a Reggio, quello che è successo con una serie di indagini della magistratura in alcune aziende sanitarie e noi riteniamo che invece sulla sanità si debba prestare tutta l'attenzione e l'impegno necessario. Noi avevamo anche chiesto al Consiglio regionale di convocare un'apposita sessione nella quale si invitavano tutti gli attori necessari, insomma dalle forze sociali, alla conferenza dei sindaci, al commissario e così via dicendo, per prestare l'attenzione necessaria in collaborazione positiva, perché in questi anni abbiamo assistito ad un conflitto tra il commissario e la regione che pur in presenza del commissario mantiene la sovranità sanitaria in capo alla regione. Invece di dialogare, abbiamo visto un conflitto che ha portato solo dei danni e che ha peggiorato le condizioni di vita dei servizi nei settori sia sociali e anche sanitarie della nostra regione. E quindi dovevano dire che c'era stato il sacco di nonno, ve lo ricordate?